TAP TAP DU AU DABADU BAU 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 DI 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 BAU E ora! Fede! Stavi aprendo! Arriva! Dai Marco, che riapre! Dai Mirko, che riapre! Oh dai Michi, andiamo! Se ti dicono che riapre, riapre! E c'è ora? E quando il parco avventura più grande d'Italia riapre il divertimento è assicurato Dai, non perdere tempo e cerca di tagliare per primo il traguardo per salire sul podio, ehm, sulla zipline con la quale attraverserai 130 metri della gola dell'orrido a 200 metri di altezza e quando avrai finito ti sentirai medagli ad oro in coraggio Corri al briefing prima dell'inizio delle olimpiadi, ehm, prima di mettere le imbragature, perché ben sette percorsi dal più semplice al più impegnativo e avventuroso ti aspettano Potrai sfidarti e sfidare la famiglia o gli amici affrontando ponti tibetani carrucole, liane, scale flottanti e quando avrai finito ti sentirai campione del mondo di divertimento Ciao! Parco Avventura Mont Blanc per un divertimento da campioni Grazie a tutti! Grazie a tutti!